Ben trovati a questo nuovo appuntamento con Tennis Mania, il classico appuntamento del martedì sera e quindi vi faccio alcune premesse oggi registriamo per cui non ci sarà l'interazione come al solito con voi però ovviamente lasciate messaggi, scrivete e ovviamente poi io leggo e vi rispondo come sempre siamo su YouTube, su chiaramente Sport2U quindi il sito di OASport, sui miei social e anche quelli di OASport e per questa puntata del dopo Australian Open che entra nella storia con la vittoria di Annick Sinner sono molto contento di avere di nuovo come ospite l'amico Luca Bottazzi, eccolo qua Grazie Dario e bentrovati a tutti Voglio giustamente fare una premessa Luca è oltre a stato giocatore di un certo tipo ha giocato in nazionale comunque da giovane è stato nei pressi dei cento, se non sbaglio Luca però soprattutto lui è conosciuto lui è conosciuto soprattutto per essere uno studioso del tennis probabilmente il più importante che c'è in Italia probabilmente il più in gamba dopo Gianni Clerici professor Bottazzi non a caso perché è anche docente universitario scrittore e insomma abbiamo commentato anche insieme e devo dire che mi sono in diverse telecroniche mi sono divertito come non mai e mi ricorderò sempre quel doppio Mischina con l'altra giocatrice russa contro Pennetta Ingins che è stato micidiale anche per l'andamento un po' simile se vogliamo anche a quello della partita di Yannick Sinner con Medveder perché anche lì ci fu un ribaltone a favore delle Russe però in quel caso ma fa niente allora prima di darti la parola perché su tanti temi ti voglio così solleticare c'è una cosa che ieri sera guardavo e mi ha impressionato e tra l'altro in qualche modo c'è un legame con questa persona che tu conosci bene perché e poi mi dirai tu se dico bene è da cent'anni che c'è l'idea il concetto dei tornelli grande slam perché praticamente si sono riuniti i capi di questi tornei intorno al 1923 e hanno deciso di accettare la proposta in sostanza di essere di diventare i quattro tornei principali in cent'anni Yannick ha vinto la sua prima finale del torneo grande slam recuperando da due set questa cosa cioè tra chi è riuscito poi a vincere anche altri slam in cent'anni l'ha fatta soltanto un altro ed è quello lì Bjornborg 1974 batte Orantes aveva 18 anni addirittura lui tra l'altro poi dopo vince anche la Coppa Davis diciamo che arrivano quei giovani successi in gioventù successi un po' come Yannick che però ha 22 anni comunque specifico perché uno può dire ma Gaudio sì nei primi anni 2000 Gaudio ha battuto Core recuperando due set a zero era la sua prima finale slam ma non ne ha vinte altre quindi il concetto è non perché io dia per scontato che Sinner vinca un altro slam ma è abbastanza probabile quindi diciamo la dimensione dell'impresa bisogna commisurarla a giocatori che hanno fatto la prima finale slam maiden vittoria quindi diciamo l'inaugurale vittoria traducendo dall'inglese recuperando due set in cent'anni l'ha fatta solo Borg che è quella cosa lì poi vincendo altri slam perché l'Hendel non era la prima finale quando ha battuto Mecker recuperando due set a zero ci sono altri casi che si possono citare ovviamente ma mi viene in mente e ti dico questa cosa Djokovic è riuscito a recuperare anche lui da due set a zero sotto ma non era la prima finale ma in passato due fenomenali campioni l'hanno fatto due volte Rod Lever quando ha vinto il suo primo slam ma aveva già fatto una finale e soprattutto il tuo Big Bill Tilden che l'ha fatto due volte recuperando da due set a zero sotto ecco ho detto un po' di cose perché secondo me possono essere interessanti cosa ti viene in mente e poi passiamo ai vari argomenti che insomma mi interessa puoi chiederti beh hai detto tante cose ora riordinarle è come mettere a posto quasi il magazzino di Amazon con tutte le cose di qua di là cioè è un po' ampia la discussione diciamo però questa cosa Borg sì questa vittoria del 74 cosa ti viene in mente mi viene in mente che la glacialità di Borg è inarrivabile perché non esultava neanche facendo minimamente il pugno anche quando vinceva le partite quindi però ci sono delle similitudini tra Sinner e Borg perché Sinner ieri nella sua forse peggior versione degli ultimi sei mesi può capitare purtroppo gli è capitato nella finale slam riesce a portare a casa una partita compromessa anche perché dall'altra parte c'è una versione di legno storto Medvedev che mi è sembrato McMedvedev perché prendeva la rete uno due sotto cioè ha sorpreso tutti e soprattutto Sinner perché ha messo in campo una strategia opposta rispetto alle attese cioè Medvedev è un giocatore che sta molto lontano risponde lontanissimo spesso lo mettono in orario sul campo centrale ma risponde dal grand stand per intenderci per cui ha completamente sorpreso tutti stava molto vicino violenza incredibile e poi giocava con una rapidità un uno due sembrava quasi una versione di arti marziali del tennis velocissimo la palla non faceva in tempo Sinner a colpire che era già tornata nel suo campo e oltretutto Medvedev prendeva la rete ecco perché dico McMedvedev sembra quasi un un paradosso un paradosso ma è così in più l'ha sepolto di Ace ha fatto sei Ace nel primo set ne ha fatti undici in tutta la partita quindi sei Ace vuol dire sei tre l'ha breccato mi sembra una volta quindi ha servito cinque volte più di un Ace a game eh no l'ha breccato due volte credo due volte quindi vuol dire che ha servito quattro volte un Ace e mezzo game più tutti i vincenti che ha fatto insomma un disastro eppure Sinner non ha battuto ciglio e su questo registro mi ricorda Borg perché anche Nadal è uno che non molla mai però Borg era proprio glaciale anche Djokovic è un giocatore che sa giocare benissimo nella lotta nel fango cioè quando le cose non funzionano però si lamenta fa sceneggiate Sinner mi ha ricordato lo svedese che tra l'altro ha avuto l'onore di fargli da sparring per tre mesi e che dire vista da un'altra angolazione se Sinner non lo battono in quelle condizioni lì quando lo battono cioè è 5 a 1 sotto nel Taible con Ruble vince 7 a 5 qui è sotto un treno 6-3 5 a 1 asfaltato riesce un po' a risalire la corrente e lo batte in 5-7 poi batte Medveden non è che ha battuto un altro come lui al debutto e quindi qui c'è la grande differenza se vogliamo con Adriano Panatta Pietrangeli e se vogliamo Alcaraz cito questi perché Alcaraz è giovane il suo diretto diciamo contendente e gli altri due perché sono italiani cioè Nicola vinceva a Parigi sullo slancio di un grande una grande settimana di tennis Panatta la stessa cosa ha avuto il suo momento negativo al primo turno contro Utka dopodiché è stato un crescendo rossiniano mentre e così Alcaraz a Wimbledon cioè ha trovato alla fine la miglior versione di sé dopo un primo set diciamo spento invece Sinner è partito malissimo ha rispetto di andare sotto 2-0 in finale contro Djokovic a Wimbledon sì però già nel secondo set che è finito 7-6 Alcaraz era ritrovato mentre qui era una situazione che potrebbe essere simile a quella di Sinner sì ma è durata di meno è durata un set quella di Sinner si è prolungata troppo voglio dire e qui proprio lui nervi d'acciaio ha dimostrato di essere di un'altra categoria sotto l'aspetto psicologico in questo momento rispetto a tutti i contendenti e mi permetti Djokovic compreso quindi gli altri sono nei guai se non lo fanno fuori in una giornata così diventa difficile probabilmente la terra battuta sarà un po' più ostica per lui ma in questo modo lui a Wimbledon e US Open si propone come minimo tra i favoriti e poi concludo dicendo che io pensavo che Yannick Sinner potesse vincere una prova dello slam o anche più di una ma diventare numero uno del mondo no perché è una questione di continuità devi giocare ad altissimo livello tutto l'anno e non dei pezzettini di stagione bisogna avere un'altra tenuta anche fisica oltre che psicologica e invece devo dire che alla luce dei fatti quello che è successo a Melbourne proprio in questa finale ribaltata devo dire che diventare numero uno del mondo non è più un sogno è un fatto concreto perché solo lui è riuscito a risuscitare una partita defunta poi se vuoi mettiamo a posto un po' le questioni storiche del grande slam e degli Australian Open sì sì volentieri intanto ti chiedo anche questa cosa almeno dai miei ricordi non mi sovviene un'altra situazione come quella di difficoltà nel punteggio di Sinner che sul 5-1 del secondo set si avvicina al suo angolo adesso si può fare una volta non si poteva ma comunque arrivavano le stesse indicazioni e Vagnozzi dice ok utilizza questo game in risposta per provare a fare cose diverse e poi sta indietro anche sulla seconda a rispondere mi viene in mente ma me lo suggerisce devo dire la verità Stefano Lanzanova che ci sta registrando perché è diventato super appassionato di tennis e ha visto il film Borg Mekero e dice che l'allenatore di Borg a un certo punto dice a Mekero a Borg gioca un punto alla volta una cosa simile però ecco è una delle prime volte che io ricordo un consiglio che in qualche modo capita nel momento in cui inizia un po' a crearsi la svolta questa cosa che pensiero ti porta a fare ci sono tante cose da dire comunque diciamo una cosa che può servire anche ai nostri appassionati che magari giocano a tennis perché ci sono dei fattori che sono comuni a tutti i livelli chiaramente cambiano le dinamiche di spazio-tempo per intenderci a tennis il punto si può fare solo in tre modi attraverso la giocata vincente l'errore procurato l'errore gratuito e questo capitava nel rinascimento tra Enrico VIII e Carlo V così come a livello tra Fantozzi e Filini e così in finale tra voglio dire Djokovic e Federer o oggi nella versione Sinner-Medveder cioè si passa per forza da quei tre croceria bene quando le cose non funzionano bisogna avere la capacità di rallentare i tempi che a questi livelli non significa buttare la palla di là ovviamente perché devi mantenere comunque l'intensità alta ma per rallentare i tempi ti faccio fare un gioco Dario prova a pensare che hai cinque velocità nel camminare ora faccio un po' il professore cinque velocità nel camminare a uno corrisponde la velocità più lenta a cinque quella più veloce ok chiaramente puoi progressivamente aumentare se pensi alla tua velocità più lenta ti accorgi che a differenza della quinta che è più veloce che aumenta anche lo spazio cioè se riesci a rallentare i tempi anche tra un punto e l'altro aumenta lo spazio e quindi la riflessione che in un momento quando le cose non vanno ti viene tutto addosso come uno tsunami cioè tutto scorre troppo velocemente la partita sfugge di mano allora bisogna cercare di dare discontinuità ecco perché questa partita è molto interessante anche dal punto di vista diciamo pedagogico per capire la disciplina perché è una partita in cui ci sono due partite un 2-7 a 0 per Medvedev come è accaduto nella finale di Torino a Sinner che è stata un'altra partita un po' opaca per carità con il gioco ci si può perdere però rispetto a quello che lui ha fatto negli ultimi quattro mesi ha preso 6-3 esattamente come qui a Melbourne e poi l'altra partita un'altra versione dove invece Sinner vince abbastanza agevolmente nel senso che non c'è stato neanche un tie break ok no soprattutto negli ultimi tre set Sinner concede una palla brecca sì cioè voglio dire poi ribalta tutte anche le statistiche perché se uno legge le statistiche intere sembra un'altra partita invece nel tennis bisogna guardare set per set se non vittura game per game perché è uno sport di situazione si può vincere facendo meno punti non meno set meno punti meno game ma non meno set quindi è uno sport particolare proprio per questo motivo quindi sono due partite in una e quindi bisogna cercare di rallentare tra un punto e un altro dicevo cercare di far ripartire lo scambio curvare di più le traiettorie cercare meno il vincente aumentare la serie dei colpi in modo che più palle tocchi più è possibile perché chiaramente uno fa un tentativo non è mica detto che ci riesca sempre più è possibile più palle tocchi trovare ritmo trovare ritmo e quindi continuità a quel punto Sinner è riuscito in questa impresa si sono avviati i primi long rally Medvedere ha speso molto durante il torneo perché ha lasciato proprio il sangue dietro di sé ha sempre perso un set tranne con quel fenomeno di Aliasim che ha voluto sfidarlo dal fondocampo e quindi è stato l'unico che ha preso 3-7 a 0 tutti gli altri al primo turno non mi ricordo chi ma poi Borges più avanti negli ottavi ha strappato un set per poi Russurovi Urkacz e Zverev addirittura al quinto e si è vista il serbatoio di Medvedere era vuoto perché sui long rally terzo, quarto e quinto vinceva un punto ogni morte di papa cosa che per lui è abbastanza atipica perché è un giocatore che sa benissimo reggere l'affondo negli scambi però con Sinner non c'era nulla da fare quindi questo bisogna fare per cercare di rientrare in campo servire più prime palle cercare di non cercare il top di gamma ogni volta non c'è bisogno di fare il record del mondo ogni volta che si tocca la palla ma cercare di comporre un puzzle in grado di aiutarsi a colpire più palle quindi ribadisco e quindi rientrare in partita è quello che è avvenuto le diagonali aiutano di più le traiettorie curve rispetto a quelle lineari aiutano di più chiaramente a questi livelli la palla viaggia però sporcandola un po' diciamo è meno penetrante fai qualche vincente in meno ma sei in the game dopodiché poi si sviluppano altri orizzonti ovviamente una volta che sei in partita puoi a quel punto scalare le marce e provare ogni tanto a sfondare l'avversario o meglio prendere la rete anche se Sinner l'ha presa poco rispetto a Metsle no quello in cui è stato bravo è sicuramente ritrovare la prima e poi usare bene il cambio in lungolinea perché ha cominciato a fare punti in quel modo ma il cambio in lungolinea lo puoi fare una volta che sei rientrato in partita perché quando sei completamente sotto un treno se provi a uscire con i lungolinea come ha fatto nel primo set non ha mai centrato il campo è vero è vero quindi sono prima devi creare dei presupposti dopo è chiaro come ho detto io scali anche le marce chiaramente il gioco può può fiorire però bisogna avere una presenza psicologica mostruosa per riuscire a risalire la corrente un'altra un'altra immagine che può aiutare i nostri amici a comprendere questo quando siete in difficoltà dovete immaginare una scala che dovete salire perché siete in salita dovete cercare di rendere gli scalini più bassi più bassi perché gli scalini bassi consentono di continuare a salire è vero che magari il fenomeno sale dei gradini molto alti e quindi sale in vetta più rapidamente però non tutti sono dei fenomeni oppure anche i fenomeni non sempre trovano la giornata migliore come nel caso di Sinner in finale quindi bisogna avere molta pazienza i gradini diventano più bassi ci metterai più tempo a salire ma con i gradini bassi non smetti mai di salire e nessuno sa quanto dura la salita verso il paradiso poi c'è c'è chi come Ambesi dice c'è chi le scale le sale c'è chi le scale le pulisce non le scende le pulisce addirittura capito è su un altro piano ma fa niente no quello che ti voglio chiedere è perché veramente poi il tempo passa veloce trovo fondamentale il fatto che Sinner abbia vinto sul cemento perché in campo maschile negli slam non c'era riuscito nessuno non so il tuo parere beh ma lui è un giocatore da cemento un giocatore soprattutto da queste superfici diciamo da indoor lui nasce infatti il primo titolo che lui vince a livello ATP è il challenger di Bergamo lui è un giocatore straordinario indoor 2 su 3 e mi sembra che l'abbia fatto vedere nel fine stagione 2023 Sinner deve come sta mettendo in campo migliorare sull'aspetto del 3 su 5 che è una cosa che mi sembra che abbia risposto in Australia e quindi a questo punto attenzione per tutta la concorrenza Sinner è pronto anche nel tennis che conta che è quello 3 su 5 che fa la differenza però rispetto alla storia italiana cioè è vero che per netta ha fatto il derby con Vinci a New York sul cemento però secondo me rispetto alla mentalità che per tanto tempo è stata il tenista italiano gioca bene su terra con bei colpi con un bello stile no? Ma questo dei bei colpi e bello stile io lascio perdere perché lo sport del tennis non sono i tuffi non c'è una giuria che dà il voto per cui è un vecchio retaggio che appartiene se vogliamo a una certa letteratura perché come molti forse non sanno il long tennis acquisisce subito un grande successo ancora prima di Wimbledon perché era giocato in tutte le dimore dei nobili d'Europa tant'è che un grande scrittore come Lev Tolstoi nel 1874 quindi ancora prima di Wimbledon descrive questo sport meraviglioso che consente ai maschietti di poter osservare le gambe delle donne punto ecco perché è grande successo alla fine torniamo a Elena di Troia quindi cambia poco voglio dire malgrado gli scenari palcoscenici perché colpendo la palla si alzano le gonne delle gentildonne e quindi sono tutti lì a tentare di giocare insomma e di godersi lo spettacolo poi chiaramente la storia del gioco prende il volo con la favolosa storia di Wimbledon e poi tutto il resto lo sappiamo dicevo gli Australian Open invece nascono nel 1905 sulla costola dei Victorian Championships 1880 solo tre anni dopo la prima edizione di Wimbledon ci sono grandissimi campioni che segnano il loro nome nell'albo d'oro tra cui Norman Everett Brooks a cui il trofeo di chi vince il singolare è dedicato io l'ho chiamato in alcuni miei libri la racchetta del diavolo perché perché nel 1907 lui viola Wimbledon primo non inglese a vincere Wimbledon e la Coppa Davis che la strappa dalla contesa tra americani e inglesi e quindi nel 7 lui diventa il numero uno del mondo è mancino e nel 7 giocare con la sinistra non potevi neanche scrivere con la sinistra era era una cosa ritenuta quasi demoniaca per dire c'erano queste credenze quindi non poteva che essere un giocatore che veniva dal mondo australe a ribaltare diciamo queste superstizioni fosse stato europeo probabilmente gli avrebbero il posto di giocare con la mano destra e sarebbe stato un bel amatore un giocatore comune di circolo invece Norman Brooks che giocava con due colpi in testa in anticipo secondo le definizioni di Tilden è il genio assoluto che ha magnificato gli anni 10 e i primi anni 20 del primo dopoguerra Luca a proposito di salti nel tempo diciamo così da osservatore attento e soprattutto con grande conoscenza come Tetti ed esperienza personale ti chiedo la differenza di percezione della panattamania con Sinnermania perché poi Panatta ha fatto quel 76 clamoroso ed è stato poi dopo un po' aspettando Godot tra virgolette invece Sinner adesso è partita questa Sinnermania clamorosa forse anche eccessiva non è eccessiva Sinner è nel suo mondo nella sua epoca social Sinner praticamente invade il mediatico ogni secondo all'epoca non c'erano tutte queste cose ma anche prima di Adriano cioè se noi pensiamo a Mohamed Ali piuttosto che a Pelè quante volte te lo potevi vedere tre volte all'anno ci fosse oggi Pelè ce lo vedi una volta al secondo in Mondovisione per dire quindi non si possono fare raffronti l'unica cosa che posso dire è che a mio parere rispetto alla percezione che abbiamo oggi Panatta è stato un grande campione ma non è mai stato il numero uno del mondo e così Pietrangeli si può dire che Adriano sia stato e anche Nicola numero uno del mondo su terra battuta e poi Pietrangeli giocava tra i dilettanti dimentichiamoci che i più forti giocatori erano professionisti nell'epoca in cui diceva Nicola gente come Russell, Hood e Gonzales non potevano giocare ne cito solo tre se no stiamo qui tutto il giorno a parlare di queste cose mentre Sinner dà l'impressione di essere un tennista che può stare nei primi quattro per tanto tempo e vincere ben più di uno slam e poi è molto più competitivo su varie superfici cioè lui fa punti da tutte le parti poi magari può fare qualcuno in meno sulla terra non lo so secondo me sull'erba può fare molto bene e quindi a Wimbledon io lo aspetto più che a Parigi e quindi stiamo parlando di un altro calibro ok di un altro calibro poi per quanto concerne l'epoca di Adriano è incomparabile la cosa perché Panatta vinceva in un'epoca di cambiamento c'era il 68 era un'epoca che socialmente era diversa a livello mondiale tant'è che l'Italia in quegli anni non aveva più la forma dello stivale lo sai aveva la forma della racchetta perché tutti costruivano campi dappertutto nascevano circoli nascevano campi da tennis mentre oggi avviene un fenomeno strano malgrado Sinner sia a tutti gli effetti un veicolo straordinario non lo invento di certo io tant'è che io spero venga usato come modello educativo e non come il solito cavallo di troia commerciale per continuare a vendere lo shampoo dell'intelligenza e purtroppo temo che sarà così che non funziona lo shampoo dell'intelligenza no? è chiaro che non funziona però piace molto ai consumatori che lo comprano a tonnellate questo è un altro discorso per cui voglio dire malgrado le vicende ferragne e company qui non si impara nulla e ne arriverà un'altra e si continua così purtroppo è un momento di progresso regressivo dai diciamo così invece tu dici che ti auguri possa essere usato invece proprio per questa sua normalità no? ma Sinner sembra quasi l'erede del massimo esponente del bonton del tennis il barone Maximilian Gottfried von Kram quel tedesco che cava nella Germania nazista che mai firmò per il partito nazista e rifiutò addirittura di sottomettersi ai diktat di Goebbels e del Führer che fermò una pallina no? sì ma voglio dire ma un personaggio straordinario perché insomma i momenti e le atmosfere negli anni 30 non erano proprio cioè semplici eppure von Kram si disting è stato capace di distinguersi in modo straordinario e Sinner pare appartenere a un'epoca diversa di quei galantuomini di quegli uomini verticali mi viene in mente una suggestione proprio perché in queste settimane pochi giorni ci ha lasciato un grande campione come Gigi Riva un campione straordinario capace di lasciare una un ricordo un retaggio profondo nella memoria degli appassionati ecco Sinner appartiene a quella categoria lì sembra quasi cioè se noi ci guardiamo intorno in generale parlo nello sport vediamo eccessi strafalcioni cioè tutto l'opposto di quello che accadeva prima mischinità ma sì voglio dire cose piccole anche poi parliamo di giocatori che non sono neanche campioni ricoperti da milioni cioè cose che se uno avesse raccontato 50 anni fa ti avrebbero riso in faccia dicono ma cosa stai dicendo ma mi stai prendendo in giro se io avessi detto a mio nonno guarda accade questo gli faccio la descrizione di oggi mi prende per matto cioè si è ribaltato il mondo ecco Sinner a suo modo ci riporta indietro a dei valori che non siano solo l'apologia del mercato unica filosofia rimasta vincente nella nostra epoca il resto non conta più Luca sai che siamo arrivati alla fine io cioè quando parlo con te ci vorrebbe il doppio del tempo perché ci sono tantissime altre cose che mi ero segnato che ti volevo chiedere ma a questo punto ti rinvito presto insomma se tu sei disponibile va bene Dario con molto piacere e c'è qualcosa che stai preparando così velocemente se ce lo puoi dire perché tu hai tante iniziative se c'è una che vuoi ricordare ma ce ne sono diverse una interessante dal punto di vista del fare per gli appassionati che probabilmente arriverà presto in una piattaforma l'altra invece è culturale è nelle mani di qualche regista in questo momento che racconta attraverso un filo tenue rosso lega diciamo questa storia attraverso il tennis però è una storia umanitaria umana di guerre di matrimoni di tradimenti di alleanze di guerre dove praticamente si sviluppano le basi di quello che oggi conosciamo come long tennis dove nasce la racchetta dove nasce il punteggio i tornei il singolo il doppio amatori di tanti professionisti le scuole di gioco e tutto si consuma tra 1480 1580 e 1580 pieno rinascimento e qui ci sono quattro personaggi assoluti due coppie di coetani che condividono le passioni uno è Ludovico il Moro signore di Milano e l'altro è il suo fraterno amico Leonardo da Vinci l'altra coppia è Carlo V imperatore del sarroco romano impero e il suo amico il marchese Federico II Gonzaga che poi diventerà Duca Carlo V nessuno lo sa ma è un tennista sfegatato ante litteram gioca in tutto il continente europeo c'è un doppio formidabile giocato da Carlo V in coppia ora non ricordo se il marchese di Dorsey o qualcun altro contro Carlo V in Inghilterra e l'arbitro dopo 11 games sospende la partita forse l'avevamo già raccontata questa cosa ma mi piace perché è molto suggestiva perché e decreta la parità cioè il pari dopo 11 è già difficile in più nel tennis non esiste però l'arbitro doveva comunque trovare il modo per salvarsi la testa salvaguardarsi eh sì perché l'imbarazzo di decretare un vincitore tra l'imperatore del sacro umano impero e il re d'Inghilterra era inguaiato e ha trovato un modo per salvarsi Yannick Sinner ha fatto la stessa cosa ieri in finale quindi questo è Luca grazie mille come sempre eh ripeto ti rinvito presto eh noi ovviamente torneremo a parlare di Sinner e di avere magari una stessa quotidiana appena tornerà a giocare sarà Rotterdam ha deciso di non gareggiare Marsiglia mi sembra una scelta corretta perfetto esatto quindi io ringrazio ancora eh Luca Bottazzi grazie a tutti Stefano Lanzanova che ci segue dietro le quinte grazie a tutti a presto con Tennis Mania ciao grazie a tutti grazie a tutti Grazie per la visione!